SILENTO 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 Lancialo, lancialo! Andiamo! Aspetta, aspetta, aspetta! Vai, vai, vai! Ah! Riproviamoci ma con le stelle ninja! Ehi, dobbiamo usare proprio un frutto con la forma della mia testa? Rilassati! Avete sentito? Che cosa è stato? Beh, non sono affari nostri. Prendiamo una pizza o... SILENTO E' addio! Quindi voi siete entrati in contatto con un misterioso liquame? Beh, noi preferiamo il termine fluido, ma sì. Che più, sai, suona più misterioso. E' più che il coda dire. Fluido. E' frigo, no? E' bluido. E' bluido.